Ragazzi, quanto mi fate ridere, sono imbarazzato per voi, sono un misto fra l'imbarazzato, lo schifato e il... Che cazzo bisogna dire, davvero dobbiamo parlare ancora di sta roba? Che vergogna! Ma che vergogna! Ma stiamo scherzando! Ne stiamo ancora parlando! Cioè, seriamente ne stiamo ancora parlando? Seriamente ne stiamo ancora parlando? Fate ridere, cioè, mi fate sorridere! Io non posso sentire programmi in televisione, in prima serata, in prima barra seconda serata dopo le partite, che si parla ancora di quello che c'era prima, si parla ancora di quando c'era lui! No, avete presente un po' quel meme del quando c'era lui, i treni arrivavano in orario, ecco, più o meno la stessa cosa, però con Allegri! Quando c'era lui, i giocatori venivano valorizzati e ble ble, adesso con Tiago Motta va tutto di merda! Calmatevi! Amici, calmiamoci, calmiamoci, facciamoci una bella passeggiata in campagna e poi torniamo a parlare! Ma innanzitutto vi saluto, buongiorno, buongiorno a tutti, come state? Spero siete bene, spero siete contenti oggi! Ma oggi è proprio quella vena un po' di Mr. Simpatia, di Fabri Fibra, incazzato nero con tutti e con tutto! Non so che cazzo mi ha preso oggi, non lo so, forse perché me lo sono appena finito di ascoltare e mi è venuta una certa nostalgia! Oggi è un po' incazzato, oggi veramente mood, Mr. Simpatia! Ce l'ho con tutti, incazzato con tutti, incazzato nero con tutti! E niente, che si dice, come state? Spero state bene! Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, commentate e ditemi la vostra, che è sempre importante, anzi, importantissimo! Perché mi fa piacere parlare con voi, perché mi fa piacere anche sapere la vostra, eh! Oh ragazzi, ci sono anche delle vedove di Allegri, le voglio qua sotto, eh! Le voglio qui sotto, le voglio qui sotto, perché voglio stare in un rapporto con voi, voglio stare in un rapporto con voi, voglio capirvi, voglio studiarvi, voglio capire che cosa c'è dentro di voi che vi continua a far tornare in mente quella cosa del, eh, Allegri, Allegri! Ne parliamo, ne parliamo, ne parliamo ragazzoni, ne parliamo, con calma, non c'è, avete fretta voi? No, io non ho fretta, voi avete fretta? No, che fretta c'è, che fretta c'è, la maledetta primavera, oggi vena musicale, oggi vena musicale! Allora, dopo due minuti e mezzo di minchiate, iniziamo a fare i signi! Allora, parliamone, perché io sono abbastanza incazzato quando sento, no, questi discorsi qua del, con Allegri, tu avresti vinto, con Allegri avresti fatto questo, tu con Allegri avresti fatto quell'altro, Perché dobbiamo ancora parlarne? Quando sono passati esattamente quasi maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, cinque mesi dal suo esonero, quasi, più o meno, quattro mesi e mezzo, cinque, perché siamo ancora qua a parlarne? Perché dobbiamo stare qua a parlarne? Cosa succede? Cosa avete voi nella vostra mente che vi fa dire, parliamo ancora di Allegri? Lo volete capire, sì o no, che Allegri è il passato? Lo volete capire, sì o no, che quello che c'è stato non torna più? Lo volete capire, sì o no, che Max Allegri parterrà per sempre alla storia della Juventus, ma bisogna guardare in avanti? Quando è che lo capite? Quando è che lo capite? Perché dobbiamo continuare a tirare fuori i paragoni col passato? Convinti che se ci fosse lui si sarebbe fatto meglio? No, amici, no, no, vi spoilerò questa? No, non si sarebbe fatto meglio, no, si sarebbe fatto peggio. E ne sono più che convinto. Posso giocarmi la mano, le mani, le mani, posso giocarmi, le mani, mi posso giocare qualunque cosa. Magari tu adesso avresti fatto meglio all'inizio, ma da lungo andare saresti finito nella stessa situazione dell'anno scorso. Perché senza idee, senza programmazione, senza progetto, qua non si va avanti. Poi attenzione, Allegri mi hanno dato i meriti di un'ottima gestione di quando ci fu il caso che si dimise tutta la dirigenza, lì sì che gli vanno fatti i complimenti, lì sì che gli vanno fatti i complimenti. Attenzione, eh, lì grazie Max per quello che hai fatto. Ma da qui a dire, rivolgo Allegri, da qui a dire, eh, Allegri non aveva questi giocatori, non aveva quelli, non aveva quell'altro. Che da una parte è vero, eh, ma attenzione. Non sto qua a sminuire, però, ragazzi miei, basta, vi prego, siete diventati pesanti, basta. Non ce la si fa più, non ce la si fa più. È un qualcosa che, veramente, bisogna passare oltre. E sapete perché sono ancora più contento che sia andato via? Non perché io ce l'abbia con Allegri, eh. No, non me ne frega niente proprio. Ma perché questo suo continuo, questo vostro continuo, essere ossessibile nei suoi confronti, vi fa capire quanto in realtà fosse ossessivo il clima intorno a lui. E quando un allenatore è così divisivo, all'interno della tifoseria, vuol dire che è sbagliato. Vuol dire che non è giusto, non è corretto, non è corretto. E non posso sentirmi bocciare Tiago Motta dopo tre giorni, dopo due mesi, tre mesi, cinque partite di campionato, una di Champions, sentimi dire Tiago Motta è bocciato, Tiago Motta è bocciato. Perché sarebbe bocciato? Perché sarebbe bocciato? Perché sarebbe bocciato? Dittemelo. Perché sarebbe bocciato? Ah, perché non vince da... Uh, ha pareggiato, mamma mia. Il problema grande, sapete qual è? È che l'anno scorso, Tiago Motta, che l'anno scorso Allegri e con Allegri tu giocavi per il pareggio. E questa è la spoglia, eh. La Juventus in questa partita non ha mai giocato per il pareggio. Che sia chiaro, no? Cioè, la Juventus in questa partita non ha mai sbagliato una partita. Cioè, tu dici, o meglio, ha sbagliato la partita con l'Empoli. Ma, se tu vuoi avere delle prestazioni, c'è sempre la voglia di andare a vincere. Con Allegri no. Con Allegri molto spesso, vi dico io, con il Napoli, secondo me, si partiva anche con l'idea di pareggiare. E ti faceva andare bene nel pareggio. Mentre invece la Juventus, con il Napoli, quello che molti criticano, no? E il 0-0 con il Napoli, con la Roma, grave pareggiare con il Napoli e Roma, senza andare minimamente a visualizzare quella che è stata la prestazione. Una prestazione convincente, soprattutto quella con il Napoli, dove si è fatto fatica alla davanti, ma la difesa dietro è solida. Bisogna migliorarla davanti. Ma le idee ci sono, e arriveranno, e arriveranno, 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 vi prego, arriveranno, arriveranno, tranquilli, tranquilli che arrivano, arrivano. Quindi, portiamo pazienza, portiamo pazienza e vogliamoci bene, eh? Che dite? Ci vogliamo bene? Ci vogliamo bene? Ci diamo un abbraccio tutti insieme e non guardiamo più al passato, ma guardiamo al futuro, radioso quanto può essere, perché abbiamo finalmente una società che programma, un allenatore che allena, un allenatore che ha idee, un allenatore che ha pazienza, un allenatore che ha voglia, un allenatore che ha visione, un allenatore moderno. Ci facciamo insieme a questo giochino? Io non lo dico con quest'era di supponenza, ma, veramente, non ne posso più di aprire Twitter e sentirmi parlare di Tego Motto a bocciato dopo 4-5 giornate di campionato e una di Champions. Non posso sentirmelo dire. Quando all'altro allenatore, quando da Lely vennero dati tre anni, dove in tre anni non c'è stata alcuna valorizzazione? Sì, qualche giovane è lanciato, ma, per puro caso, vi ricordo, Fagioli, tanto amato Fagioli, se non fosse stato per Pogba rotto e per mezza squadra fuori, con Lecce non giocava mai. Su Lecce è grande, valorizzato su Lecce, venne dato al Frosinone per essere valorizzato. Perciò, ragazzi, ve lo dico, secondo me l'anno scorso era giusto cambiare ed è giusto che si continui così. Diamo tempo, pazienza a Tego Motta. Che dite? Tempo e pazienza a Tego Motta. Perché fidatevi che Tego Motta è l'uomo giusto. Poi, attenzione, io adesso dico che l'uomo giusto, se fra due anni, barra tre, Tego Motta non porta a casa i ricoltati, allora sì che si inizia da criticare, allora sì. Se questa stagione va male, si critica, la prossima si dà ancora fiducia, se dall'anno prossimo non va bene, allora va bene. Si inizia da dire, non va bene, bisogna esonerarlo. Ma io do tempo, due anni, due o tre anni si dà tempo, perché c'è bisogno di tempo per costruire. Se volete tutto subito, viene fuori una merda. Cioè, la torta, tu dici, oh, l'impasto è buono, mettiamola in forno. Se la torta richiede 50 minuti di cottura, tu la vuoi dopo 20, viene fuori una merda, la mangi merdosa. Devi aspettare 50 minuti, amico mio, se non aspetti 50 minuti, non la mangi, non la mangi, perché poi, magari, per la tua foglia, la tua fretta di volerlo subito, ti mangi una torta liquida, una torta cruda, e ci stai pure male. Mentre invece, magari, se tu avessi aspettato quel qualcosina in più, forse avresti mangiato un'ottima torta. La Roma deve insegnare, ragazzi, io a Del Rosso avrei dato tempo, assolutamente sì. Però, beh, Juric comunque è un ottimo allenatore, però anche lui va dato tempo, perché ha dei concetti di gioco che devono essere memorizzati. Ma, invadisco l'Atalanta, il caso più eclatante che... di quello che è, secondo me, la società come programmazione. Spero che tutte le società italiane continuino sotto quest'ombra. Vabbè, questo è un altro discorso, noi prendiamo un altro video. Perciò, ragazzi, io vi invito a lasciare un mi piace, a commentare, a dimmi la vostra, ed iscrivervi al canale. Mi raccomando, iscrivetevi. Ciao, ragazzi. Ciao. Grazie.